Buongiorno, mi chiamo Wadi Tarek, sono un venditore ambulante, sono del Marocco e sono qua a Giare residente. Già che sono qua 15 anni, ho la moglie italiana, magari i figli, questo non è il problema. Qua sono con i miei compagni, che sono magari loro marocchini, che abbiamo una grossa problema, che il comune non si sta favorendo a un posto dove possiamo lavorare. Prima, ai primi tempi, prima gestione, diciamo prima che viene questo nuovo sindaco, eravamo nella Villa Margherita, eravamo là tranquilli nella pace. Poi quando è arrivato il nuovo sindaco hanno dato una sistemazione nella villa e ci hanno detto di spostare questo piazzale del mercato orto e frutticolo. Dopo un po', non lo so, sono venuti i vigili, ci hanno detto che qua non potete stare, dovete andare vicino a un supermercato, che è Lidl, a 400 metri di qua. E siamo andati di là. È passato un mese, 20 giorni, ci hanno detto di nuovo di là, non potete stare, dovete tornare a questo posto. E quando sono tornati di nuovo in questo posto, queste gente del mercato, queste gente del mercato, che lavorano là dentro, escono tutti i camion per deghetta, così noi non possiamo montare più. E da ieri che sono qua questi camion, fanno magari un confusione di traffico e nessuno di cittadini, diciamo, di giare, ricama né ai carabinieri né a qualche forza dell'ordine. E sono tranquilli. Noi stiamo chiedendo solo una cosa a tutti i cittadini di giare, quelli che ci conoscono, che siamo una vita, che siamo qua, che loro ci comprano da noi, che siamo grandi grandi amici, che ci fanno un aiuto con noi, al comune. Così noi cercamo un postecino, noi possiamo lavorare e portare un pezzo di pane ai nostri figli. Perfetto. Voi avete chiesto un appuntamento al comune con qualcuno? Due giorni fa siamo andati al comune, abbiamo parlato, diciamo, due minuti, può essere magari tre minuti, con il sindaco, poi il sindaco ci dicevo, dovete parlare con il vice sindaco. E abbiamo parlato con il vice sindaco e ieri eravamo appuntati e quando siamo andati ieri per parlarci, lui non c'era, l'abbiamo chiamato, dice che è a Palermo, possiamo vederci il lunedì. A un giorno, all'altro, a una settimana, all'altra, i nostri figli che cosa devono mangiare, questo è il punto del ricordino.